Bene, anche per il basso diciamo due cosette. Allora, come si vede, tasto, terzo tasto c'è il Sol. Quindi quando gli altri fanno Mi, Ano, De, e noi su quel detto entriamo con il nostro Sol. Terzo tasto sulla quarta corda. Che La, Sci, La, Valle, Sol, Do e Sol. E che forse non tornerai più. Io il Re ve lo consiglio sulla quinta corda perché è più controllo. Si parla anche qua con la corda vuota. Lo facciamo sulla quinta corda qui. Sono, Tri, Stai a vederti partire. Suggerisco di mettere questo, la nota Si, prima di arrivare al Don. Quindi sono triste a vederti partire perché so che di nuovo Sol non ti vedrò più. Re, Sol. Come gli accordi scritti sul brano. Vediamo un po' come viene. 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 Vediamo un po' come viene.